Penso che molti di voi abbiate visto il film Le Mans 1966 che in realtà negli Stati Uniti quando era uscito qualche mese prima era stato intitolato Ford contro Ferrari. Di fatto di quello si tratta, non tanto del tentativo della Ford di vincere la 24 ore di Le Mans quanto di farlo a scappio della Ferrari. Questo perché? Per un tentativo di rivalsa e perché qualche anno prima, nel 1963 per la precisione, la Ford aveva tentato di acquistare la Ferrari. Tentativo che non era andato a buon fine ed è esattamente quello di cui vorrei parlare quest'oggi. La storia inizia un mercoledì di aprile del 1963, mercoledì 10 di aprile, quando un signore che si chiama Firmer Paradise che è il presidente della Ford italiana, quindi della filiale italiana della Ford, chiama in ufficio a Maranello e cerca di parlare con Enzo Ferrari. Enzo Ferrari in realtà quel giorno, a quell'ora, non è ancora in ufficio. Mi ricordo che Gozzi quando mi ha raccontato la storia mi ha detto che mi avesse potuto vedere con una tazza di caffè fumante in una mano e la settimana endigmistica nell'altra avrebbe capito che il capo quel giorno non c'era. Ma dove era il capo quel giorno? Il capo quel giorno era a Bologna. Bologna era un po' una sorta di messaggio in codice nella Ferrari di Enzo Ferrari, soprattutto in quegli anni. Volevo dire che il capo era da qualche parte per affari privati che spesso avevano magari a che fare con connotazioni di stampo femminile. Fatto sta, questo diciamo era un po' un nome in codice che sapevano in pochi, ma che ovviamente sapeva Gozzi, poiché Gozzi era di fatto parte della famiglia della famiglia di Ferrari. Sfiguratevi che Franco Gozzi, chiaramente lo sapete, è un personaggio leggendario, ha fatto 28 anni con Ferrari ed era senz'altro uno degli intimi della cerchia più stretta di Enzo Ferrari. Fatto sta che Ferrari non c'è. Gozzi chiede se può prendere un messaggio e Paradaic gli dice no, dica soltanto che ho chiamato. Quando Ferrari nel tardo pomeriggio rientra da Bologna, Gozzi gli dice che chiaramente ha chiamato Paradaic, che è il presidente della Ford italiana. Ferrari rimane abbastanza vasito, perché? Perché cosa può volere il presidente di una filiale di una casa automobilistica americana da lui? Si erano incontrati un paio di volte negli anni precedenti, ma non avevano mai in realtà discorso di niente. Ma Ferrari sa perfettamente, come tutti a quell'epoca, che la Ford è impegnata in quella che era stata battezzata la campagna europea, vale a dire la Ford cercava di penetrare il mercato europeo con maggiore forza rispetto al passato. Per cui Ferrari intuisce che magari ci può essere qualcosa di interessante. Allora dice a Gozzi di richiamare, di fissare un appuntamento, ma di non fissarlo a Maranello, dove la presenza di film Paradise non sarebbe passata inosservata, ma di fissarla a Modena, nella palazzina che era stata la sede della scuderia Ferrari negli anni 30, dove Ferrari aveva abitato fino a qualche anno prima, perché ci aveva abitato fino al 1960, e dove ancora conservava tutto quello che riguardava l'assistenza cliente. Ed era comunque lontano da occhi indiscretti, perché di solito Ferrari le sue riunioni, le sue giornate di lavoro le passava a Maranello. Quindi due giorni dopo, venerdì 12 di aprile 1963, i due si incontrano e Filmer Paradise va subito al sodo e chiede a Ferrari se fosse, se dovesse essere interessato a una collaborazione tra la Ford e la Ferrari. Ma Ferrari capisce che c'è qualcosa di più e andando avanti nella conversazione, Filmer Paradise gli accenna addirittura a un piano industriale. Può essere interessato la Ferrari a concludere un accordo industriale con la più grande casa automobilistica al mondo. E Ferrari si dice interessato. Ferrari sa benissimo quello che stanno iniziando a capire tutti gli altri piccoli costruttori di automobili sportive. Pensate che di lì a poco la Maserati entrerà nell'orbita della Citroën, perché all'inizio degli anni 60 diventa chiaro che una piccola casa costruttrice non può andare avanti da sola, senza interventi estranei. Per cui Ferrari, che è sempre rimasto affascinato dagli Stati Uniti per un qualche motivo, Indianapolis, i 12 cilini della Packard che ha visto durante la Prima Guerra Mondiale, ha consente ad intavolare un discorso. Quella sera Filmer Paradise chiama Detroit e la settimana dopo lì a Iacocca, che è un nome che poi tornerà alla ribalta vent'anni dopo, quando salverà la Chrysler dalla banca rotta, ma che all'epoca è di fatto il direttore generale della FIA, della Ford a Dearborn, nel Michigan, chiama cinque dei suoi più stetti collaboratori e gli dà istruzioni per andare in America. Gli dice una cosa abbastanza curiosa, dice mi raccomando, se trovate dell'ostilità da parte degli italiani, da parte delle persone della Ferrari, non fatevelo un problema, perché dice, fa questo paragone abbastanza interessante, dice come se, non so perché usi la parola mafiosi, ma è come se dei mafiosi italiani venissero, visto che l'attribuisce ai suoi uomini, è come se dei mafiosi italiani venissero negli Stati Uniti e cercassero di acquistare i New York Yankees, quindi tale è la considerazione che lì a Iacocca ha per la Ferrari, la paragona diciamo a una delle icone dello sport americano, quindi New York Yankees. I cinque uomini vengono e per due settimane di fatto fanno quella che oggi chiameremo la due diligence, cioè fanno l'inventario di tutto quello che c'è in Ferrari, di quello che può valere. Nel frattempo Ferrari, per quello che lui chiama un intimo sentimento di italianità, diciamo una sorta di scrupolo, per non essere poi accusato di aver venduto agli americani senza essersi consultato prima con le aziende del nostro paese, cosa fa? Sonda le tre grosse case automobilistiche italiane del momento, vale a dire la Lancia, l'Alfa Romeo e naturalmente la Fiat e ne ottiene tre risposte negative perché ciascuna a modo suo gli dice che comunque non può fare nulla per lui. Quindi la risposta della Lancia è che dice che la Lancia era molto scettica sul fatto che l'esperienza che si accumulava nelle corse potesse essere traslata nelle automobili stradali. L'Alfa Romeo è in realtà un problema di interesse, dice se noi dovessimo acquistare una parte o tutta la Ferrari si presenterebbe un problema di dualismo, dovremmo capire quale delle due attività sportive avrebbe la prevalenza sull'altra, Alfa Romeo o Ferrari. La Fiat attraverso Vittorio Valletta che è da sempre molto vicino a Enzo Ferrari risponde invece che parla addirittura di umiliazioni, la Fiat si sente umiliata di non poter fare per il grande Ferrari quello che probabilmente dovrebbe fare, cioè dargli una mano perché rimanga a lavorare con le forze industriali italiane, ma dice che la Fiat in questo momento non può competere con un colosso come la Ford. Per cui a questo punto Ferrari ha capito che dalle industrie automobilistiche italiane non può ricevere alcun aiuto, per cui è tranquillo ed è determinato ad andare avanti e a vendere, se l'accordo effettivamente sarà firmato, alla Ford. L'unica cosa che chiede e che ha sempre chiesto già dal primo incontro con Firmware Paradise è assoluta indipendenza per quel che riguarda l'attività sportiva. Lui ha già Firmware Paradise nel loro primo incontro, il 12 di aprile aveva detto io mi sento un costruttore, non mi sento un industriale, per cui se la Ford vuole far parte della mia azienda lascio alla Ford discrezione a livello di vetture e passeggeri, quindi quella che noi chiamiamo la gestione industriale della Ferrari, perché nella gestione sportiva io abbia l'assoluta indipendenza. Tra l'altro la due diligence porta a una cifra che è molto molto interessante per quegli anni, 18 milioni di dollari. A questo punto Ferrari dice di sì, la cifra gli va bene e dagli Stati Uniti Don Frey, scusatemi, l'EI a coca manda uno dei suoi bracci destri, si chiama Don Frey, è un ingegnere di 39 anni, che ha la libertà di concludere, quindi di firmare per conto della Fiat l'accordo, per conto scusatemi della Ford, l'accordo con Ferrari. Don Frey tra l'altro si prende subito molto bene con Ferrari, Frey ha 39 anni, ne dimostra probabilmente 10 di meno, dice Gozzi e tutto sommato probabilmente a Ferrari ricordava Dino che era ingegnere, tant'è che quando sa che ha addirittura un dottorato in ingegneria smette di riferirsi a Frey come ingegnere, lo chiama dottore ingegnere, questo per dire che c'è sintonia tra Ferrari e colui il quale è venuto per chiudere l'aggrimente, il contratto. Al punto che mercoledì 15 di maggio, quindi di fatto poco più di un mese dopo il primo incontro tra Ferrari Paradise, gli americani controfirmano una nota scritta di proprio pugno da parte di Enzo Ferrari nella quale si ipotizza la creazione di due aziende separate, vale a dire della Ford Ferrari e della Ferrari Ford. La Ford Ferrari costruirà automobili sportive per il mercato italiano e per il mercato europeo, quindi non per gli Stati Uniti ma per il mercato europeo. Ricordatevi che questa operazione con la Ferrari fa parte del piano Europa della Ford. Ferrari sarà il vice presidente di questa azienda e avrà il 10% delle azioni. La parte invece che interessa molto di più a Ferrari è la seconda azienda, vale a dire la Ferrari Ford, la Ferrari Ford che sarà la gestione sportiva, sarà l'azienda che si occuperà di correre in tutte le discipline che Ferrari riterrà opportune. Ferrari sarà presidente della Ferrari Ford e avrà il 90% delle azioni. Addirittura pare che quel giorno raccontava Gozzi che Ferrari scala diocasse su un pezzo di carta addirittura a quelli che avrebbero potuto essere i loghi delle due aziende. Fatto sta che c'è il via libera quindi a procedere per la firma, firma che dovrebbe avvenire cinque giorni dopo, vale a dire lunedì 20 di maggio. Nel tardo pomeriggio si ritrovano tutti gli americani e gli italiani, Ferrari con i suoi avvocati, con Gozzi che è presente, per rivedere tutti gli allegati, rileggerli in italiano e in inglese e poi firmare l'accordo storico che prevederebbe quindi l'acquisto della Ferrari da parte della Ford per 18 milioni di dollari. Ferrari in realtà comincia subito ad arricciare il naso, poi ci sono certe cose che tutto sommato non gli sembrano esattamente messe per iscritto così come gli erano state dette, ma capisce che è importante il momento, è importante che la Ferrari firmi questo accordo perché per poter assicurare un futuro alla sua azienda, fino a che non arriva all'allegato numero 17, neanche a farlo apposta, Ferrari non è mai stato, era superstizioso ma non tantissimo, però l'allegato 17 lo manda in bestia, l'allegato 17 è quello che riguarda la gestione dell'attività sportiva. Ferrari ha sempre, come vi ho ricordato prima, ha sempre chiesto, battuto su un unico punto, completa indipendenza da un punto di vista di attività sportiva e quello che legge non gli piace, vale a dire Ferrari ha sì dalla Ford indipendenza da un punto di vista sportivo, ma all'interno dei limiti del budget fissato preventivamente all'inizio della stagione. Una volta superato il budget, qualsiasi cifra superiore ai 10.000 dollari, deve essere preventivamente approvata da Detroit. Ferrari si impunta, si gira verso Gozzi e dice, scusa ma dice così, Modenese ovviamente, dice così anche in inglese, Gozzi conferma che effettivamente dice la stessa cosa, l'allegato numero 17 dice che qualsiasi spesa al di fuori del budget preventivamente approvato, superiore ai 10.000 euro, deve essere approvata da Detroit. Ferrari si impunta, dice che questi non erano i patti e si sente rispondere una cosa che non avrebbe mai voluto sentire, si sente offeso, umiliato. Gli americani gli rispondono, Ferrari lei vende la sua azienda e pretende ancora di disporne a suo piacimento. A questo punto racconta Gozzi, sta per scatenarsi la tempesta, Gozzi lo conosceva bene Ferrari, sapeva leggere quello che oggi chiameremo il body language, Ferrari fa una piccola pausa e poi comincia con una serie di improperi, più che in italiano in modenese, che il traduttore all'inizio, l'interprete all'inizio comincia a tradurre per gli americani, dopodiché si ferma, uno per l'oscenità di quello che stava uscendo da quella bocca, due perché comunque non era necessario tradurre, gli americani avevano capito subito che cosa stesse bollendo in pentola. A un certo punto Gozzi racconta che questo va avanti per due o tre minuti, a un certo punto dice temevo che Ferrari si alzasse, afferrasse il tavolo con entrambe le mani e lo rovesciasse con tutti i suoi incartamenti addosso agli americani. Ferrari a un certo punto si alza, non rovescia il tavolo, guarda Gozzi e gli vuole, andiamocela a mangiare. Attraversano la strada, vanno al cavallino e mangiano. Gli americani rimangono interdetti all'interno dell'ufficio di Ferrari dall'altra parte della strada. Sono le 10 di sera di lunedì 20 maggio 1963 ed è il momento preciso in cui l'accordo tra la Ferrari e la Ford sfuma ed è in realtà l'inizio in cui poi comincia, il momento in cui inizia la rivalità, la rivalsa che la Ford cercherà di attuare nei confronti della Ferrari e che poi si arriverà a perfezionarsi con la vittoria nella 24 ore di Le Mans del 1966. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!